La storia dell'Apostolo Pietro illumina la facciata della Basilica. E su questa pietra edificherò la mia chiesa. La serata inaugurale della proiezione di luci e suoni, narrata da Flavio Insinna, è presentata da Millie Carlucci, ospite d'eccezione dell'evento Andrea Bocelli. Seguimi, la vita di Pietro, questa sera alle 20.50. Grazie a tutti.